ciao ragazzi ciao ragazzi è da un po che non faccio video per colpa dei denti comunque oggi faccio vedere cosa ho preso siamo andati a fare la spesa e adesso faccio vedere tutte le nostre acquisti euro spin la spesa allora dove cominciamo cominciamo dal detersivo dexal protege fibra è anche perfumato è un po perfumato buono 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 allora mettiamolo qua sulla sedia così non ruppe poi ho preso l'ammorbidente questo è niente l'ammorbidente incontri avvolgente peccato che non c'era quello che prendo di solito la fragola cioè frutti di bosco che è buonissimo questo è lo snack che è già stato aperto no perché ci sono dei non so dei topi aperto vedete voi che topi ci sono anche queste finite vabbè ecco caramelle al latte tipo le gallatine poi ho preso dieci di questi panini arabi l'olio l'olio qua olio di semi vari 5 litri oppure diminuito poi questo perché se mangio troppo mi viene mal di stomaco sono le effervescenti ho preso quattro di queste di queste cose vegani sono vegani o vegetariane vegani sono molto buone sono veramente molto buone buono buono veramente sì 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 poi barretta di cioccolato barretta di cioccolato anche queste topi in azione due pizze di queste miga gigantesche qui poi gorgonzola gorgonzola dolce hamburger da mettere nel freezer caffè caffè espresso macchiato 16 capsule per dolce gusto 6 bottiglie di questo acqua tonica al limone poi ho preso anche questa una confezione di queste bottigliette che sono 12 poi ho preso lo yogurt poi qua ci sono c'è il patè di olive taggiasche che è buonissimo ho provato anche quello dell'idol ma quello che non lo batte nessuno noci sgusciate poi burro 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 poi due confezioni da 6 di questa acqua qui il cacao amaro in polvere zucchero zucchero bianco ho preso questa che la cipria compatta la nutella dopo la cipria c'è la nutella gusto la maionese 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 poi tre di queste patè di salmone spalmabile ho preso tre confezioni poi questi biscotti sono quelli che si inzupano nel latte e si disintegrano praticamente poi le orecchiette con le cime di rapa sorgelate mix di formaggi questi biscotti qui che sono le digestive al cioccolato con dentro il cioccolato brioche per la mattina al cioccolato e questa qui alle noci c'erano anche i bomboloni ma ce li siamo cognati tutti quanti queste sono le invece c'è radicchio non mi ricordavo più questo qui è il broccolo questi qua sono poi due confezioni di uova da cos'è 10? 10 cioè 20 uova praticamente poi altra cosa questo formaggio spalmabile e anche questo poi ho dimenticato qualcosa? no ah no ecco la frutta ho preso le mele di questo tipo rosse e anche di quest'altro tipo eccole qua poi basta ho fatto tutto sì ho speso no per me mancano i gnocchetti alla sorrentina che praticamente ce li siamo già mangiati le patate che ho dimenticato in macchina una rete di patate da 4 kg poi basta vi ho detto tutto sì grafen sì radicchio uova pizza pizza sì ho detto tutto ho speso 143 euro e 19 centesimi eccolo qua benissimo il video finito e ci vediamo al prossimo video ci vediamo qui ci vediamo pupa ho fatto ci vediamo